Ed eccoci qui ragazzi in compagnia del vostro DiabloTex per un nuovo unboxing è un unboxing di due prodotti che ho preso un po' di tempo fa ma ad oggi che siamo al 15 novembre andrò ad unboxare perché avevo... ho avuto da fare quindi ragazzi allora faremo un unboxing tutto a tema di Astro Bot sia il DualSense di Astro Bot che il titolo per PlayStation 5 cioè uscito a settembre e io lo sto aprendo nel mese di novembre questo per farvi capire tutti gli impegni comunque partiremo prima con il gioco e poi andremo con il DualSense allora vediamo un po' così almeno posso anche installarlo no? oppure magari lo porterò anche sul canale volete Astro Bot ragazzi? Volete che porti Astro Bot sul canale? fatemelo sapere perché magari si potrebbe anche fare si potrebbe anche fare allora certo ragazzi quasi due mesi fa è uscito Astro Bot non ricordo quando è uscito ragazzi ma è qui comunque eccolo qui allora all'interno troviamo c'è qualcosa di bello allora c'è qualcosa di bello ragazzi abbiamo il Blu-ray di gioco giustamente eccolo qui Blu-ray di gioco qui è la cover dentro cover reversibile che bello dai ve la farò vedere come vecchi tempi ecco qui la cover ragazzi ed ecco qui la cover all'interno quindi cover reversibile molto bella io so che adesso voi aspettate il DualSense anche perché è anche introvabile il DualSense di Astro Bot e vi dico ragazzi che non è stato semplice trovarlo sono stato molto fortunato poi all'interno abbiamo il foglietto ma questo non c'è bisogno neanche che lo farò vedere ma all'interno abbiamo veramente una bellissima sorpresa un piccolo poster di Astro Bot guardate che bello ragazzi è una piccola cosa che comunque fa sempre molto piacere queste cose qui fanno molto piacere e poi dietro giustamente veramente bello 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 ragazzi devo essere sincero una piccola chicca che comunque ormai queste cose qui non si trovano più dentro i videogiochi insomma quindi vedere una piccola sorpresina così io personalmente resto sempre molto molto contento allora qui possiamo chiudere la confezione di gioco e adesso passeremo al DualSense che io avevo già aperto giustamente per vedere se c'era però adesso lo farò vedere anche a voi perché questo qui non credo che lo userò per giocare non credo che lo userò per giocare quindi vabbè dentro troviamo il classico libricino che tanto nessuno di voi è interessato come non lo sono neanche io quindi ma il pezzo forte ragazzi viene adesso e poi vi dirò anche una cosa vi dirò anche una cosa allora ovviamente per fare certi unboxing ragazzi ci vogliono ci vogliono i guanti per fare certe cose ci vogliono i guanti allora guardate quanto è bello il DualSense di Astrobot perché qui notate la cromatura qui no che è bella luccicosa bella qui con gli occhi di Astrobot ve lo farò vedere in tutta la sua integrità no guardate dietro che bello c'è anche il volto di Astrobot inizialmente io avevo visto giustamente il trailer di lancio del DualSense con Astrobot e si vedevano gli occhi qui che si muovevano che tipo si chiudevano allora ad un certo punto ho detto ma sarà veramente così sarà realmente così perché in un primo impatto ragazzi giustamente ero molto euforico della situazione però poi vedendo il prezzo 80 euro e così via ho detto no secondo me torniamo un attimino dietro perché secondo me gli occhi saranno solo disegnati e infatti ragazzi è così però inizialmente vi dico che avevo creduto in quella cosa che gli occhi si sarebbero insomma chiusi si animavano insomma però poi non è stato così ma questo poi l'ho immaginato comunque il DualSense è bellissimo vedete che ho anche Astrobot qui in mia compagnia quindi questo è stato l'unboxing di Astrobot più il DualSense di Astrobot che ragazzi io se lo trovate vi consiglio di prenderlo però adesso chi lo vende sono prezzi veramente assurdi l'ho pagato a prezzo normale 79,90 quindi il prezzo suo ufficiale quindi un saluto a tutti e al vostro Diablotex spero che anche questo unboxing sia stato di vostro gradimento e chiedo ancora scusa per gli scattini che fa la webcam ma ragazzi non è colpa mia secondo me dovranno fare qualche aggiornamento grazie di cuore a tutti appuntamento sui prossimi unboxing ciao a tutti dal vostro Diablotex